Partiti, partiti cavalli dell'edizione 2013 della Corsa Siepi dei Quattro Anni. Liberge va a prendere gradatamente l'iniziativa nei confronti di Polly for Life, scusate di pregio di Polly. Terzo si sistema invece Whiston. In quarta c'è Thulemond, a precedere l'ospite tedesco Falconetti e ancora Vamaker de Le Cue. Queste le posizioni dei cavalli lungo l'arco della prima curva conduce Liberge nei confronti di pregio di Polly. Thulemond è terzo, poi Whiston, Falconetti e Vamaker de Le Cue. Allora, Liberge è andato in fronte, come ora dalla curva. Liberge per pregio di Polly. A terza stella Thulemond. Cavalli che sono a metà della diagonale con Liberge che scandisce l'andatura di corsa nei confronti di pregio di Polly. In terza procede invece Thulemond, che ha nella scia Whiston, poi Vamaker de Le Cue, con a contatto Falconetti. Cavalli che verranno adesso ad affrontare nel senso contrario di quello abituale l'arco della curva di Marlengo. Liberge conduce con nella scia pregio di Polly. Quindi Thulemond davanti a Whiston, Vamaker de Le Cue, nella cui scia procede il tedesco Falconetti. Sì, è stato molto, molto forte, la gestione è ancora di Liberge per pregio di Polly. E a terza stella Thulemond. Queste le posizioni dei cavalli quando il gruppetto va a risalire la diagonale con Liberge che mantiene la sua posizione nei confronti di pregio di Polly. Quindi Whiston e Thulemond, ancora Vamaker de Le Cue, mentre il retroguardi a contatto si mantiene Falconetti. In fioro, in fioro, in fioro, in fioro, per pregio di Polly. Cavalli che vengono al completamento anche della curva, vengono adesso per il passaggio davanti alle tribune. e Liberge continua l'evidenza nei confronti di pregio di Polly all'esterno. Si mantiene a contatto anche Thulemond, Whiston all'interno di quest'ultimo. Poi Falconetti e Vamaker de Le Cue. E qui, davanti alle tribunali, è sempre sempre di Liberge, pregio di Polly, Thulemond e... Sì, per le tribune, i cavalli si mantengono ben raccolti anche all'attacco della curva di Marlengo con Liberge che subisce un primo attacco da parte di pregio di Polly dietro i due. Gravita sempre Thulemond, quindi Whiston, Falconetti, Vamaker de Le Cue. Con queste posizioni i cavalli vanno all'attacco della retta opposta alle tribune con Liberge che adesso va ad accelerare nei confronti di pregio di Polly. Whiston, Thulemond, Falconetti, Vamaker de Le Cue. Tre quarti della retta opposta. La lotta è molto accesa con Liberge che prova a respingere l'attacco di pregio di Polly. All'esterno si presenta Falconetti, all'interno del quale c'è Thulemond, poi ancora Whiston. I cavalli sono sulla siepe di metà curva, Liberge subisce un attacco concreto da parte di Falconetti e dietro ai due c'è Thulemond, ultimo tratto della piegata, i cavalli entrano in dirittura. Liberge prova ad accelerare ancora su Thulemond e Falconetti. La lotta è molto accesa sull'ultima finale, Liberge, Thulemond e Falconetti. La lotta si fa incandescente a 150, Liberge su Thulemond, testa a testa. Nelle ultime battute, Liberge, Liberge tiene vantaggio, Liberge resiste tutta strada, vince Liberge. Davanti a Thulemond, terze Falconetti, poi pregio di Polly e Whiston. So, wir haben es gesehen, pregio di Polly, an'a zweiter stelle, gerade auf der zielgeraden wurde er von... Corsa siepe dei quattro anni, vince Liberge, cavallo concreto in grandissima crescita, respinge tutti su tutto il percorso. Alla fine respinge con forza anche la puntata di Thulemond, vince Liberge, Sylvain Mastain, la scuderia Siba, Francesco Contu, seconde Thulemond, terzo il tedesco, Falconetti, più indietro Whiston e pregio di Polly. Alla fine respinge con forza anche la puntata di Thulemond, terzo il tedesco,